questo compito. Ecco, ricominciamo, stasera parleremo di, buonasera, di integratori, integratori sì, integratori no, e vedremo quando è utile prenderli, quando invece è meglio evitare. Adesso vediamo un attimo le nostre iniziative, abbiamo con inizio il 14 di novembre, quindi la prossima settimana, questo corso che abbiamo chiamato Metamorphosis, in realtà è un corso di cinque lezioni, dove andremo ad utilizzare i tarocchi, la numerologia e i colori. Quindi abbiamo messo insieme questi tre strumenti evolutivi, perché hanno un'importanza notevole per il nostro percorso di consapevolezza, i tarocchi non nel senso di predire il futuro, lo ribadiamo, ma i tarocchi evolutivi, che rappresentano un po' il viaggio di una persona nel suo percorso evolutivo. Sono 22, parleremo in particolar modo degli arcani maggiori, che sono 22 appunto, mentre gli arcani maggiori daremo, scusate, minori, daremo solo un accenno breve, non c'è tempo, altrimenti, perché è un argomento bello tosto. Quindi tarocchi, numerologia, quindi vedremo i numeri dall'1 al 22, i numeri maestri, i numeri karmici, vedremo come calcolare il numero del destino, il numero della quintessenza, il numero dell'anima, della persona. Ecco, faremo a ciascun partecipante una piccolissima carta numerologica con i propri dati principali, chiaramente non verrà sviluppata, però gli daremo i numeri di nascita e in più, vabbè, l'arcano di nascita, appunto il suo arcano di nascita. Oltre a ciò andremo a fargli il test dei colori di Luscher, che è un test utilizzato dalla psicologia per, in base alla scelta della persona, per vedere un po' la personalità, come si manifesta. Se è una persona introversa, estroversa, se diciamo ha un carattere allegro, oppure piuttosto tendente magari un po' alla tristezza, alla depressione. Ecco, andremo a vedere un po' queste cose e in più vi faremo fare un ghiaggio in questo affascinante mondo. L'altra volta avevamo fatto un corso sui tarocchi e sui fiori di bacca, le persone che hanno partecipato erano rimaste contentissime e avevano seguito con molta attenzione. Comunque il corso sarà in cinque lezioni, a partire da giovedì 14, dalle 20 e 30 alle 22. Se qualcuno deve saltare qualche lezione, una o più lezioni per qualche motivo, ha la possibilità di avere la registrazione. In ogni caso le registrazioni dalle serate le facciamo avere il giorno dopo a tutti i partecipanti. Per tutte le informazioni 351-582-8819. Adesso direi di rompere la condivisione. Poi l'altra cosa che ci tenevamo è quello sul glutine che però è dall'altra parte. Glutine. Era qua prima. Ok, dieta senza glutine. Ecco, questo è un percorso che noi facciamo sempre, lo ribadiamo ogni tanto per ricordarlo, se riesco a condividere. Ok. 21 giorni senza glutine. Sapete che il glutine è un alimento pro-infiammatorio, ormai lo utilizzano di per sé e ben tollerato dal nostro organismo. Il problema è che negli ultimi anni, raffinando sempre più le farine, il contenuto di glutine è aumentato notevolmente, in più questo glutine per rendere gli impasti morbidi lo utilizzano veramente ovunque, non soltanto nei panificati, diciamo, e nella pasta, ma viene utilizzato veramente in tantissimi prodotti. Quindi siamo tutti cresciuti un po' a frumento, quindi a forza di mangiare sempre quel cereale, siamo tutti un po' intolleranti e infiammati da questo glutine. Attraverso questo percorso di 21 giorni, che potete fare, ovviamente potete sceglierlo voi, questo non va con la luna piena o con la luna calante, crescente, questo è un percorso che nel momento in cui decidete per 21 giorni di escludere il glutine, che non è nemmeno così difficile, perché non vuol dire soffrire la fame, ci sono tanti cereali che sono ottimi e anzi è anche di stimolo imparare ad utilizzarli, perché generalmente tendiamo sempre a mangiare le stesse cose, invece imparando in questi 21 giorni vi diamo anche qualche ricetta, imparando ad utilizzare altri cereali, il sorbo, il riso integrale, piuttosto che il miglio, la quinoa e tutto di tanto di guadagnato, oltre a far piatti gustosi, ci si nutre anche nel modo migliore. Gli altri cereali sono molto ricchi di vitamine del gruppo B, di aminoacidi essenziali, quindi è un mangiare di qualità. Anche qui per tutte le informazioni 351-582-8819. Adesso direi, o lo diciamo alla fine Carlo, quello dell'Onda Vitale e Benessere? Sì, no, perché quello che vorrei dire è che questa sera sono tre anni, tre anni che facciamo dirette Zoom al centro del Benessere, un po' tutti i martedì. Abbiamo iniziato il 9 novembre del 2021 in una situazione chiaramente molto caotica e piena di paure, perché la gente fa paura di contrarre il virus. Infatti la prima serata è stata, abbiamo parlato della lattoferrina, quercitina e zinco come integratori naturali, diciamo antivirali. Il discorso degli integratori è un discorso molto interessante perché ormai hanno invaso il mercato in maniera massiccia, infatti molte case farmaceutiche vedendo questo trend diciamo si sono messe a produrre gli integratori di vitamine e minerali, ma tutti su base, maggior parte su base sintetica. Quindi sono elementi inorganici che difficilmente il nostro corpo riesce ad assimilare, anzi creano tossicità. Quindi nell'individuare l'integratore da assumere bisogna avere molta attenzione se è su base naturale o su base sintetica, perché se no si va a sostituire diciamo il farmaco con qualcosa che è sempre sintetica anche lui, quindi non è che faccia tanto bene. E' un concetto importante che ci tengo a ribadire, che è un concetto fondamentale in naturopatia. Prima di mettere, bisogna vedere cosa c'è da togliere. E' inutile mettere integratori di tutti i tipi quando poi si mantengono le cause per tutta una serie di errori nello stile di vita, nell'alimentazione, nei pensieri. Come nuotare controcorrente, anche se l'integratore è valido, però bisogna andare a rimuovere le cause fondamentalmente. Se no andiamo a continuare quei ragionamenti, quei pensieri cardine che ci sono nella medicina di oggi, che non si va a guardare la causa, non si va a guardare cosa ci sta dietro, ci si limita alla punta dell'iceberg e si cerca di sopprimere o comunque contenere quell'effetto finale. E non è il percorso migliore, almeno non è il percorso che le medicine tradizionali di una volta percorrevano. Questo è un concetto che si è sviluppato negli ultimi cento anni perché l'industria farmaceutica non ha mai interessato il discorso della prevenzione, ma del sopprimere il sintomo. E sono due concetti totalmente diversi. Fare vera prevenzione vuol dire riportarsi su un percorso naturale, su stili vita corretti. Infatti lo scopo e le finalità dell'associazione Onda Vintale da quando l'abbiamo fondata era proprio quello, divulgare sani stili di vita. Ed è quella l'unica strada, perché se no si va a ricadere sul concetto, prendo anche questi integratori per stare bene. Mi ricordo, è stato così nel 2021, forse, eravamo in mezzo al discorso virus, che avevamo sentito una persona che ci seguiva in quel periodo, dice, ma io prendo 8-10 integratori al giorno, una cosa esagerata. Però mi ammalo lo stesso. E beh, perché c'è un motivo normale, ci sembrava lo stesso. Anche perché non aveva eliminato le cause e ho utilizzato tanti integratori di sintesi, che non risolvono nulla. Infatti, gli integratori una volta erano a base di piante, erbe, tisane, tinture magri, per esempio, estratti secchio-acquosi, per esempio. Erano quelli gli integratori. Adesso invece si è rivolzato tutto su un mercato di tutto totalmente industriale. E poi comunque è a dimostrazione che gli integratori, sia vitamine che minerali sintetici, non funzionano. Sono diversi esperimenti fatti. Addirittura ce ne erano stati un paio ordinati dalla Pfizer, principalmente per il mercato americano. Perché volevano dimostrare con queste ricerche che da frutta alla verdura cruda o cotta non andava bene. E che erano meglio avere un'integrazione di vitamine e minerali. E sono stati fatti due studi, uno su 40.000 persone, l'altro su 38.000, 35.000. A un gruppo venivano dati un placebo, diciamo. E all'altro gruppo veniva dato un'integrazione importante di vitamine e di minerali. Alla fine di questo studio, quegli studi che sono durati cinque anni, veniva dimostrato che chi aveva avuto un'integrazione di vitamine e minerali sintetici, chiaramente, se malavano più facilmente ed erano più deboli. Ma lo stesso, un altro studio che avevo citato diretta a Zoom in precedenza, perché parlavamo di cibi sintetici, perché quello che vorrebbero fare adesso è dimostrare che il cibo sintetico, le bistecche sintetiche, già mi sembra, in Israele vengono prodotte, viene prodotto della carne sintetica, per esempio, che va a ricalcare esattamente vitamine e minerali per quello che è in natura. E se è dato del cibo sintetico di questo tipo a dei topolini, e anche lì, rispetto al gruppo di controllo a cui veniva dato del cibo compatibile per quel tipo di animale, si ammalavano più facilmente, avevano tantissimi problemi, perché non si tiene in conto di un aspetto di fondamentale importanza. E su questo ci abbiamo lavorato un po' come associazione, perché abbiamo tenuto dei laboratori sull'energia vitale degli alimenti. Ogni cosa ha una vibrazione, ha un'energia vitale. Infatti Simonneton, che aveva fatto una serie di studi, e c'è infatti il livello vibratorio su cui misurava i cibi, è che i cibi morti, che sono i cibi cotti, la carne cotta per esempio, è un livello vibratorio che sarà su 2.000, 2.500, o Simonneton o Armstrong, perché veniva misurata anche in Armstrong. L'essere umano vibra a 6.700, 6.800 Armstrong. Tutto quello che mangia, che ha un livello vibratorio più basso, gli abbassa la vitalità, gli abbassa l'efficienza. Tutto quello che invece ha un livello vibratorio più alto, quindi la frutta, particolarmente ma anche la verdura cruda, vanno su 7, 8, 10.000 Armstrong, anche 12.000, particolarmente, e lì si va a vedere la differenza che c'è tra il biodinamico, tra le coltivazioni biodinamiche e anche le coltivazioni biologiche. e c'è una differenza importante a livello vibratorio, quindi anche lì, se andiamo a misurare il livello vibratorio delle compresse sintetiche, abbiamo un livello vibratorio bassissimo, oltre al fatto di essere inorganico, e quindi il nostro corpo fa fatica sicuramente a rendere disponibili, quindi a utilizzare quelle vitamine e quelle minerali, c'è anche un discorso di livello vibratorio, perché tutto è vibrazione. Infatti, noi adesso stiamo utilizzando uno strumento quantistico che utilizza proprio le frequenze, perché ogni organo ha una frequenza, ogni patologia a una frequenza. Se noi andiamo a lavorare sulla frequenza corretta di quell'organo, di quella patologia, possiamo avere un aiuto importante, comunque, da strumenti di questo tipo, che si stanno sviluppando tanto perché trovano un'efficacia, una validità, dove dà dei risultati, dei buoni risultati. Chiaramente, uno strumento quantistico così va bene, ma anche lì, diciamo, non è la bacchetta magica. Può rientrare in un approccio complessivo della persona a 30 gradi, andando a togliere, come dicevo prima, quelli che sono gli errori nello stile di vita, nell'alimentazione, nei pensieri. È una componente che ci dà una mano di un certo interesse. E con questo strumento qui lavoriamo in presenza, ma prossimamente lavoreremo anche a distanza, dal remoto. Comunque, poi lo comunicheremo quando mi ho finito queste prime sperimentazioni, già tre settimane, che abbiamo. Ma ritornando sul discorso degli integratori. Infatti adesso stiamo andando a rivedere un po' tutti gli integratori che stiamo utilizzando o che proponiamo, perché vogliamo andare a centrare e a proporre esclusivamente integratori su base naturale che siano molto biodisponibili, perché ormai è un mercato strapieno di tutto, completamente. È un integratore sintetico, crea danni perché disturba anche il pH del sangue, perché acidificano chiaramente, irritano lo stomaco e creano un sacco di problematiche, come anche calcoli renali in certi casi. Quindi, una cosa importante e fondamentale è non pensare di riempirsi di integratori e avere risolto il problema. L'approccio alla persona è completamente diverso. Qualche integratore ci può stare di qualità, logicamente, ben bilanciato in determinati momenti, in determinati periodi. E non riempire con quella signora che ho sentito qualche anno fa 8-10 integratori e poi si ammalava lo stesso, perché non è quella la strada. 8-10 c'è anche chi ne prende di più, c'è anche chi si prende un sacco di pillole durante la giornata. Ci tenevo a dire questa cosa. Secondo una recente indagine del Censis, in Italia ben 32 milioni di persone assumono integratori alimentari per garantirsi benessere e buona salute. Il mercato degli integratori è in costante crescita e solo nel 2018 è aumentato del 126%, muovendo oltre 3 miliardi di euro. A preferire gli integratori sono soprattutto le donne e fortunatamente la maggior parte segue il consiglio di medici o di farmacisti. Resta però una buona fetta di consumatori che acquista integratori, come dicevo prima, dietro suggerimento di amici, familiari o perché l'hanno letto su una rivista o perché appunto qualcuno gli ha suggerito, magari a me ha fatto bene, provalo anche tu, anche lì. È un mercato sempre in crescita maggiore e come dicevo, in particolar modo dopo il Covid, noi abbiamo visto un'impennata di persone che prendono tantissimi integratori e poi se gli si dice ma questo perché lo prendi, ma l'altro perché lo prendi, ma questo... Alcuni dicono è perché durante il Covid viene utilizzato come prevenzione, quindi lo prendo e poi serve prendo gli omega 3, poi prendo questo, poi prendo l'altro e magari quella persona di quegli integratori non aveva effettivo bisogno. Cioè, ripeto, noi non siamo contrari all'assunzione di integratori perché, come diciamo sempre, negli ultimi cent'anni la presenza di minerali e vitamine nella frutta e nella verdura si sono dimezzati e purtroppo anche se è sempre meglio cercare di avere un'alimentazione sana ed equilibrata nei limiti del possibile, è necessario qualche volta, non sempre, ma è necessario integrare con qualche integratore di buona qualità che aiuti l'organismo. Però anche qui si parte sempre da un discorso fondamentale che non è che devo utilizzare l'integratore come farmaco, cioè ho un'alimentazione disordinata, dormo poche ore, mangio male in orari sballati, non mi riposo mai e poi prendo l'integratore naturale per dormire, prendo quello per, che ne so, per abbassare il colesterolo perché magari mangio grasso. Prendo, è chiaro che utilizzare l'integratore in questo modo, come ben potete pensare, vi fate più male che bene e inoltre non è questo il modo di assumere un integratore. Quindi deve essere sempre preso in un'ottica di ok, mangio bene, ho uno stile di vita nel limite del possibile sano, integro con questo integratore che può essere uno barra due integratori che in questo momento magari con quello che mangio non riesco a assumerne il giusto quantitativo. Oppure, non so, noi per esempio consigliamo spesso durante i mesi invernali l'integrazione di vitamina D3, ma semplicemente perché? Perché d'estate vi diciamo, prendete il sole, state all'aria aperta il più possibile, chi può andare al mare, in montagna, eccetera. D'inverno, siccome mediamente la vita qua nel nord, molti stanno tante ore alla luce artificiale, dentro ufficio, comunque al chiuso, le giornate durano poco, cioè durano poco, sono corte e il sole, chiaramente le ore di sole sono notevolmente inferiori rispetto all'estate. Quindi il nostro fabbisogno di vitamina D3 è chiaro che nella maggior parte dei casi rischiamo di andare in carenza con tutta una serie di disagi, disturbi e fastidi che potremmo evitare. Ma chiaro che se una persona si fa un esame del sangue da un 100 come 80, 100 come vitamina D, non consigliamo chiaramente di integrarla. Non sono tantissime purtroppo le persone che hanno una vitamina D così alta, però ecco anche lì valutiamo, va valutato. Tendenzialmente però l'integrazione di vitamina D è una di quelle che d'inverno consigliamo, però la consigliamo perché c'è un motivo ben preciso, perché d'estate vi diciamo non prendetela e prendete il sole, estate è il sole, cioè è sempre preferibile scegliere la via naturale, cioè o dell'alimentazione, quindi assumere ciò di cui abbiamo bisogno, i nutrienti attraverso l'alimentazione e quando non possiamo mangiare magari tonnellate di quel prodotto e non riusciamo a coprire il fabbisogno, allora magari si valuta l'integrazione. Ma se c'è una carenza che si valuta con un esame del sangue, con il naturopata, con magari il test chinesiologico, con la radiostesia in altri modi, però non si danno, diciamo, integratori così a caso perché va bene, prendilo, al massimo ti copre, ti ammali di meno. No, non è proprio il modo migliore. E quindi ecco, stasera volevamo porre l'accento su questa cosa, anche perché alcuni integratori, come diceva prima Carlo, soprattutto di natura sintetica, possono avere anche degli effetti collaterali e delle interazioni con i farmaci. Quindi devono essere comunque sintetizzati dal fegato, per cui alcune volte se noi ci prendiamo 10-12 integratori al giorno, chiaramente andiamo ad appesantire il lavoro del fegato che già deve fare un lavoro di filtraggio non indifferente. Ecco quindi che è un motivo in più per prendere l'integratore che ci serve in quel momento e solo se ci serve, solo se effettivamente c'è una carenza. Quindi alimentazione equilibrata e varia, ricca di vegetali, che fornisce all'organismo vitamine, minerali e sostanze antiossidanti, è la cosa migliore da mettere in pratica. A volte, come dicevo prima, il ricorso integratori è un alibi per poter mantenere le nostre cattive abitudini. Quindi si spera che assumendo sostanze antiossidanti si possano arginare, per esempio, i danni del fumo o che un multivitaminico sia in grado di sopperire alle carenze di una dieta squilibrata o che facendo ricorso a un integratore brucia grassi posso mangiare quello che voglio, tanto poi prendo l'integratore che mi brucia i grassi. È chiaro che non è così, quindi ecco, bisogna stare attenti e bisogna valutare bene quando si decide innanzitutto rivolgersi a qualcuno che ci consigli sulla base della nostra situazione personale e quindi assumere integratori solo se ne abbiamo effettivo bisogno. Ecco, poi per esempio un altro integratore che noi consigliamo d'inverno è la vitamina C, per esempio, generalmente in linea di massima. Anche qui c'è la possibilità, come sapete noi la vitamina C non la produciamo, siamo gli unici mammiferi a non produrla e soprattutto si consuma con il caffè, per esempio con caffè, con fumo di sigaretta. Quindi è uno degli integratori che di solito diciamo, beh, se una persona prende l'integrazione vitamina C naturale, attenzione, non sintetica, sto sempre parlando di un integratore di buona qualità naturale. Però potrei anche dirvi, se avete la possibilità, mangiate ovviamente arance, mandaranci, tutto kiwi, agrumi in quantità, mangiate, fatevi la spremuta di limone. Quindi cercare innanzitutto con l'alimentazione di coprire il fabbisogno e poi magari prendervi anche un integratore naturale di vitamina C che male non ci fa, perché tendiamo a disperderla con molta facilità. Sulla vitamina C, c'è da dire una cosa, la vitamina C, parli infatti bisogna prendere quella naturale perché quella sintetica acidifica tantissimo e quindi ci va a creare un discorso di acidosi tessutale molto elevato. Qui c'è una domanda, però se pronunciate, mi è stato raccomando di prendere la vitamina D tutto l'anno, io sospendo d'estate, ma è importante prendere la K2 ed è di fondamentale importanza prendere la K2 che è quella che va a distribuire nei posti dove serve. La K2 insieme alla D però. Sì, insieme alla D distanziata di 5-6 ore. La vitamina D poi è quella più facilmente assimilabile a quella oleosa e non tanto quella in compresse. Sì, però lei dice, la domanda è un'altra che lei fa. Lei la sospende d'estate rispetto a quello che le è stato detto di prendere tutto l'anno. Non fa bene a sospenderla d'estate se va al mare, se sta al sole, se ha la possibilità. Ma dipende poi dai valori che si hanno, chiaramente. Bisogna fare un controllo, non viaggiare così. Ma se tu ti esponisci... E' stata che sicuramente, se si sta molto all'aperto, non dovrebbe servire comunque la vitamina D, tranne carenze veramente gravi, però vabbè. Ecco. Sì, la K2 la sera e la D a pranzo. Ok. Buonasera. Per la vitamina K2, quale marca preferire? Grazie. Allora, diciamo che noi tendiamo a non dare marche, cioè almeno mentre facciamo la diretta, perché non facciamo pubblicità a nessuna marca in particolare. Possiamo dare un consiglio, secondo noi, una buona marca di vitamina K2 privatamente. Se ci mandi un messaggio, Niki, poi te lo diciamo. Ecco, non è che prendiamo, non siamo pagati da nessuna casa di produttrice di integratori, quindi preferiamo evitare. Però se ce la chiedi, ti possiamo dare quella che noi consigliamo. Ok. E anche lì, per quanto riguarda gli integratori, come diceva prima Carlo, ormai tanti si sono messi sul mercato. E purtroppo, chiaramente, dove si vede la possibilità di guadagnare, sappiamo che si mettono sul mercato non garantendo una certa qualità, una certa serietà. Quindi, anche tra gli integratori, anche noi stessi abbiamo imparato a fare una certa cernita, cioè a vedere dei parametri, che vabbè adesso non sto qua a dirvi, per valutare quelle che sono le case serie che producono integratori di qualità e non scartare, diciamo, quelle che invece lo fanno, integratori di bassa qualità, magari anche con prezzi alti e che effettivamente lì non apportano nessun beneficio al nostro organismo. E anzi, magari hanno anche degli effetti collaterali. Quindi bisogna veramente muoversi anche nel settore degli integratori, proprio perché è diventato di moda prendere gli integratori e quindi tutti ci si sono buttati, tante aziende, guardare bene alla qualità. E quindi, come diceva, chiedeva prima Niki, quanto deve essere la vitamina D? Faccio rispondere a Carlo, dipende, dipende. Ah, quanto deve essere come valore? Allora, se intendi dire come valore del sangue per avere un livello sufficiente, diciamo attorno non meno di 50-60, altrimenti sei troppo bassi. Se intendi dire quello? Confermami se intendevi dire quello perché penso di sì. Quanto deve essere come valore del sangue? Ah, ok. Ecco, non meno di 50-60, mentre normalmente gli esami che si fanno, mi sembra che se uno è fino a 30 sufficiente. È una miseria 30, è bassissimo 30, non è sufficiente, bisogna alzarla. Però voi troverete nell'esame che fate del sangue mediamente che per 30 vi dicono valore sufficiente, assolutamente no, bisogna incrementarla. Poi appunto volevo dirvi un'altra cosa, velocemente, dove trovate le vitamine in quali alimenti? Quindi, come dicevo prima, è molto meglio ricorrere all'alimentazione e attingere le vitamine e i micronutrienti dall'alimentazione. Poi, dove non arriviamo con l'alimentazione e se c'è una carenza, chiaramente si interviene con l'integrazione. Allora, vitamina D, come vi dicevo, D3, solo d'inverno perché è d'estate, perché si sta poco al sole. La vitamina D, ovviamente, si trova dove? Nell'olio di fegato di merluzzo, in primis, nella grifola frondosa che è il fungo maitake, che è il fungo cinese, quello che si utilizza anche come cura, nella carpa, nel salmone affumicato, nello sgombro, nel pesce spada e nel tonno, la vitamina D. Poi, la vitamina C, chiaramente, dove si trova in tutti gli agrumi, tutti, nei peperoni crudi, per esempio, kiwi, pomodori, spinaci, nei piselli, nel prezzemolo, nel rosmarino, nella menta, nelle more, nei mirtilli. Chiaramente si parla di alimenti consumati per lo più crudi, perché già voi il peperone, se lo fate cuocere, la vitamina C è termolabile, quindi se ne va. Il prezzemolo, che è ricchissimo di vitamina C, andrebbe messo crudo sulla pietanza, oppure aggiunto alla cottura proprio l'ultimo minuto, di modo che non cuocia, altrimenti perde la vitamina C. La vitamina A, per esempio, si trova anche quella nell'olio di fegato di merluzzo, nell'anguilla, è maggiormente presente negli alimenti di origine animale, in quantità maggiore. Però la si trova anche nei carotenoidi, nelle carote, nel peperoncino, nelle albicocche secche, nella patata dolce, nel cuorlo d'uovo, nel basilico. Quindi vedete che abbiamo la possibilità, variando l'alimentazione, di prendere le vitamine ancora dal cibo, anche se ovviamente, come abbiamo detto, è cambiata la ricchezza di nutrienti dentro il cibo. La vitamina B, quindi tutto il complesso B, nel lievito di birra, nei fiocchi di avena, nel riso e cereali. Ricordo, come vi ho detto prima, che i cereali antichi, quindi quelli che non hanno glutine o ne hanno pochissimo, contengono moltissime vitamine del complesso B, quindi consumateli perché veramente sono molto benefici anche per la salute, più del frumento, molto più del frumento. Poi l'alga spirulina, il germe di grano, il coriandolo sono ricchi di vitamina B. La vitamina E negli oli vegetali, nei frutti e nei semi oleosi, quindi noci, mandorle, nocciole, sempre nel germe di grano, nel burro, nell'avocado, nelle castagne, nelle olive. Adesso è il periodo delle castagne, quindi consumate le castagne che hanno un sacco di proprietà, fanno bene, sono buone, gustose e la natura ce le offre in quantità in questo periodo. La vitamina K2, la trovate nel natto, che è questo prodotto fermentato ottenuto attraverso la fermentazione appunto dei fagioli della soia, nel cuorlo d'uovo, nel fegato di bovino e nel burro di ghi e di solito questa si integra perché dovreste mangiarne a tonnellate, dovreste mangiarne un sacco per coprire il fabbisogno. La vitamina K generale, generica questa, sempre negli oli vegetali, nelle verdure a foglia verde e nel cavolo, nelle cime di rapa, nella lattuga, nella insalata iceberg, ancora nel kiwi, nelle patate e nel prezzemolo. La K di solito non si integra perché normalmente non c'è carenza, con la K2 invece sì perché c'è necessità di integrarla generalmente. Ecco quindi qui era solo per dimostrarvi come le vitamine le troviamo nell'alimentazione, se noi mangiamo già tanta frutta e verdura, diciamo possibilmente biologica vera, di qualità e tutto quanto, riusciamo a coprire il fabbisogno. Ecco, in linea di massima. Qui c'è una domanda, buonasera se potete poi darmi la marca degli integratori buoni e come si fa a capire se sono sintetici e non naturali? Per esempio la vitamina C c'è scritto, è indicato, perché la vitamina C naturale c'è scritto, acerola, rosa canina, mirtillo, rosso, quindi generalmente è indicato. Invece cos'è Carlo la vitamina C? Cos'è, come si chiama quella sintetica? Acido ascorbico. Eh, non mi veniva, l'acido ascorbico che vendono anche i barattoloni di polvere che vi dicono di metterla nell'acqua, di berla e che è uguale alla vitamina C naturale, in realtà provate su di voi, provate a prenderla e poi non è la stessa cosa e soprattutto avete anche dei disturbi di pancia, non state tanto bene, si sente la differenza tra quella naturale e quella sintetica, anche se la maggior parte dei medici e farmacisti dicono che è la stessa cosa. La questione importante e fondamentale è che in natura le vitamine le troviamo associate ad altri elementi e all'acqua biologica che contiene quell'elemento lì che sia frutta sia verdura ed è questa sinergia che porta poi all'efficacia della vitamina. Se andiamo a prendere una vitamina sintetica, solamente quella e non ha gli altri elementi che agevolano la sua biodisponibilità prendiamo poco, prendiamo poco e niente. Ma infatti quando è stato tempo fa, anni fa, quando abbiamo sperimentato, abbiamo preso un barattolone di vitamina C sintetica era, ma dieci anni fa, è stato tanto tempo fa, dalla Cina, giusto per vedere e provare. L'abbiamo provato ma non serve a niente, infatti la maggior parte è andato gettato perché tutta roba sintetica ma poi dava fastidio, crea facilmente a livello intestinale, crea diverso fastidio. Invece poi abbiamo provato della vitamina C su base naturale, tutta un'altra questione, completamente diversa, una biodisponibilità molto più elevata perché il nostro corpo riconosce determinati alimenti e non ne riconosce altri, riconosce quelli organici, quelli che vengono dalla natura, quelli che vengono realizzati in laboratorio, non li riconosce, è inutile, è inutile perché sennò facciamo solamente un discorso teorico ma non pratico e concreto. Quindi è importante utilizzare sicuramente integratori che provengono dalla natura. Eh sì, è la stessa cosa per esempio del fruttosio estratto in maniera sintetica dalla frutta e quindi venduto separatamente diventa dannoso. Mentre il fruttosio contenuto nella frutta che noi ci mangiamo insieme al frutto ha delle proprietà, fa bene all'organismo e ha delle proprietà benefiche perché la natura non fa nulla contro. È quando noi prendiamo il prodotto e estrapoliamo una parte che in quel caso lì presa singolarmente non ha più l'effetto dell'insieme ma diventa dannoso. Infatti il fruttosio preso per esempio da solo come dolcificante è dannoso perché si rischia di sviluppare il diabete. Assolutamente no, mentre il fruttosio inserito nella frutta, insieme alla frutta, chiaramente fa bene perché è tutto il frutto che fa bene, che è ricco di sali minerali, di nutrienti, anche di fruttosio. E noi spesse volte la farmaceutica separa, prende il principio dall'insieme, che può essere il frutto, la pianta eccetera, ma non è la stessa cosa perché quando noi per esempio ci prendiamo la tintura madre, il rimedio fitoterapico, ci facciamo la tisana di salvia, di rosmarino, la tisana di qualsiasi basilico, non so. Noi ci prendiamo tutta la pianta perché mettiamo la foglia essiccata, facciamo il decotto, facciamo l'infuso e quindi ci prendiamo in toto tutte le proprietà. Non è che andiamo a estrarre quel principio e da solo lo assumiamo, lì infatti diventa, diventerebbe dannoso. Se potete dare una marca affidata, ecco, quanta vitamina D prendere al giorno, dipende, dipende dal valore, Nicky, dipende dal valore che si ha facendo un, diciamo, un esame, un esame, facendo la valutazione del, con l'esame del sangue. Comunque di solito dipende appunto dal livello che si ha da 2.000 a 10.000 unità al giorno, più o meno, nelle situazioni più carenti. 2.000 è il minimo, 2.000-3.000. Ah sì, 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 no, per il fruttosio sarebbe proprio da non utilizzare. Se faccio una torta meglio mettere un frutto che comprare il frutto. Allora, anche qui dipende, nel senso che il fruttosio non è da utilizzare, da comprare separato come dolcificante. Se fai una torta puoi utilizzare, vabbè, la frutta, se tu fai una torta di mele, la mela già di per sé è dolce. Dipende lì dal tuo grado di dolcezza, perché non viene dolce dolce come potrebbe piacere alla maggior parte delle persone. Puoi aggiungerci un po' di sciroppo d'acero, oppure puoi aggiungerci un po' di stevia, che però conferisce un sapore un po' particolare, ma quella è naturale al 100%, oppure puoi aggiungerci, anche se farlo cuocere non è il massimo, un po' di miele. Anche se, ecco, per quella volta c'è chi utilizza il miele per fare i dolci. Sicuramente cotto non è il massimo, perché perde gran parte delle sue proprietà. Alcuni dicono che diventa dannoso, però ecco, non usare il fruttosio, piuttosto usa lo sciroppo d'acero quella volta, usa, ecco, la cosa migliore da utilizzare sarebbe la stevia, perché ha zero calorie e solo che bisogna abituarsi, perché dà un sapore un po' particolare. C'è anche l'eritritolo, per esempio. Sì, l'eritritolo, che in dosi contenute non è dannoso, diciamo, non crea problemi. Ecco, però il fruttosio da solo comprato al supermercato non è da consumare, assolutamente, perché non ha per niente beneficio, è quasi come lo zucchero bianco, quindi evitiamolo. Poi ecco cosa volevano dire, ecco, quindi ecco, se volete prendere degli integratori, fate sempre, fatevi sempre fare una valutazione, ecco, questo era per dire di non prenderli così perché l'amica vi ha detto che lei a lei fa bene, perché voi non siete, ognuno sapete poi che è un individuo a sé, non siamo tutti uguali, e quindi magari sulla base di quello che vi dice lei lo prendete pensando che sia, e poi magari voi dite, ma a me non fa l'effetto che faceva lei, perché effettivamente c'è un motivo, o perché non eravate carenti, o perché non vi serviva, o addirittura perché in quel caso lì non vi fa bene, non vi fa per niente bene. Ecco, questo era un discorso che non volevamo dilungarci troppo, ma che ci tenevamo a precisare stasera, perché è un argomento abbastanza importante, visto la diffusione così selvaggia che si sta verificando sull'assunzione degli integratori, da quando appunto c'è stato il periodo Covid, dove per la paura, per carità, non è che tutti si sono precipitati a prendere gli integratori per aumentare le difese immunitarie e per evitare di ammalarsi, per, 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 e quindi chiaramente capiamo quello che è successo, sappiamo bene, la paura fa 90, è ovvio che uno pur di non ammalarsi avrebbe preso qualsiasi integratore, però adesso non siamo più in quella situazione, quindi pochi integratori e mirati e soprattutto dati da qualcuno che vi fa una valutazione d'insieme e vi dice se effettivamente avete bisogno di quell'integratore oppure no. Ecco, anche poi ognuno è libero di lavorare come crede. Io personalmente diffiderei di persone che vi riempiono di integratori, ecco, che andate a fare una consulenza e vi dicono prendi questo, prendi questo, prendi questo, prendi questo, insomma, ecco, un paio di integratori, massimo nelle peggiori delle situazioni, tre, però ecco, non, non integratori come se non ci fossero domani, cioè prendere questo, poi questo, poi questo, a meno che, a meno che, e anche qua è da valutare caso per caso, ci siano delle situazioni di carenza multiple, cioè di persone che hanno veramente problemi di assimilazione per delle patologie, allora in quel caso va sempre con, diciamo, il consulto del medico, del farmacista, dell'operatore olistico, di chiunque sia serio, ecco, va fatta una valutazione e si decide insieme, ma quindi ogni caso è un caso a sé, non è in assoluto, non bisogna prendere gli integratori, però chi sta mediamente bene e vuole continuare a stare bene, non abusare di integratori, ecco, questo era il messaggio che noi volevamo dare, sicuramente sappiamo che ci sono anche operatori che sono completamente in disaccordo con noi, perché danno parecchi, parecchi integratori, noi optiamo sempre per la via della natura, quindi integratori sì, ma con attenzione e limitati, limitati nel tempo, limitati anche lì, sarebbero da prendere per tre mesi, poi fare una pausa, non prenderli indistintamente, come diceva la signora prima, per l'osteoporosi per tutto l'anno, anche perché poi il corpo si abitua, quindi sempre fare tre mesi, poi una sospensione di un mesetto, se poi si vuole ricominciare a prenderlo, si ricomincia, però non prendere gli integratori per un anno intero, assolutamente. Insomma la questione è che la base deve essere sempre lo stile di vita corretto, l'alimentazione sana, l'alimentazione di qualità, quella è la base di tutto, perché minerali e vitamine si possono recuperare sicuramente per una buona parte, sicuramente nel cibo, è fondamentale, stare all'aria aperta, ritornare alla natura, perché la natura ci dà tutto quello che ci può servire per stare in equilibrio, per stare in buona salute, il fatto di prendere tanti integratori senza andare a rivedere un pochino tutta una serie di cose importanti nella propria vita, vuol dire intossicarsi spesso di più. Utilizzare l'integratore come sostituto del farmaco, lo stessa cosa, cioè io mangio male, non mi muovo e prendo l'integratore per dimagrire, ecco è un po' l'assurdità, l'integratore va preso nell'ambito di un sano stile di vita come aiuto appunto a migliorare ulteriormente, non come sostituto di una vita così non mi devo impegnare, prendo quello e sono a posto. Il concetto di chi prende i farmaci è lo stesso, perché va dal medico, gli danno la pillolina o le pilloline magiche e continua a fare sempre le stesse cose di prima e cerca di compensare mettendo delle pezze con dei farmaci soppressori, ma poi alla fine le cose vengono fuori, se arriva una certa età stracarichi di farmaci, intossicati completamente, ci si becca facilmente qualunque virus, qualunque batterio, qualunque cosa, ci si ammala velocemente, quello è il livello di tossiemia altissimo, altissimo, quindi la cosa fondamentale è avere delle abitudini, uno stile di vita corretto e comunque avere un livello di tossiemia, che sono le tossine che ci sono addosso, un livello basso, per quello tutti i mesi proponiamo dei detox, per esempio delle depurazioni, perché la strada è quella, dare al nostro corpo il massimo di potenzialità, perché la natura ci ha fornito di corpo e mente che sono eccezionali, purtroppo attraverso abitudini sbagliate lo mettiamo in ginocchio, lo mettiamo in ginocchio e quindi ci si ammala più facilmente, si fa più fatica a venire fuori dalle problematiche fisiche, ma se lo rispettiamo il nostro corpo può sicuramente darci la possibilità di vivere una vita efficiente e sempre in buone condizioni, perché poi se ci si becca quella problematica ci si rimette in buona forma molto più velocemente di una persona che già viaggia zoppicando, se si becca un problema ci mette tantissimo tempo a rimettersi tra virgolette un po' a posto, queste sono delle cose, dei concetti di fondamentale importanza, quindi cosa vuol dire? Prendersi in mano in reddita la propria salute e operare i cambiamenti dove serve, importanti per avere uno stile di vita corretto, che vuol dire sana alimentazione, attività motoria quasi tutti i giorni, pensieri positivi di approccio al mondo, alla realtà, sono gli aspetti fondamentali, il resto poi cercare di vivere con meno stress possibile per esempio, perché lo stress abbiamo visto che porta veramente le persone a indeborire difese immunitarie e comunque a portarsi su un percorso che non lo fa stare bene, quindi ridurre lo stress, quindi cercare di non avere le giornate sempre tirate facendo 3000 cose perché poi il nostro corpo ci chiede il conto e non si scappa. Eh sì, ci siamo dilungati anche stasera, volevamo essere brevi. Allora, martedì prossimo bisogna dire che non ci saremo, non ci saremo perché abbiamo questa conferenza sulla geoingegneria, quindi il martedì prossimo saremo impegnati. Ingegneria comunque che rientra sempre nel discorso del benessere della persona perché se spargono metalli tossici in altura, logicamente in atmosfera e poi ci ricade tutto addosso e anche lì anche il biologico non è più così biologico perché l'acqua che viene giù contiene tutti questi metalli tossici e quindi ci intossicano con queste scie chimiche e creiamo degli sconvolgimenti a livello climatico che abbiamo visto a Valencia ma in tante altre parti del mondo stanno sconvolgendo completamente tutto. Per quello ci teniamo a organizzare un'iniziativa di questo tipo perché bisogna far arrivare delle informazioni documentate logicamente perché il maresciallo Roberto Nuzzo ha una serie di documentazioni enorme che va a dimostrare quello che stanno facendo in maniera chiara e inconfutabile. E poi vabbè col professor Spaggiari ci parlerà delle ricadute a livello di problematiche fisiche sull'essere umano, sugli animali e comunque sulle piante. Una cosa che volevo ricordare… Timona chiede se c'è la possibilità di vederlo, quello di martedì prossimo, se verrà registrato Carlo? Probabilmente sì, però questo lo decideremo nei prossimi giorni. Lo faremo sapere. Che volevo dire, è tre anni che teniamo queste dirette zoom con Accentri il benessere, e abbiamo un canale Telegram specifico, Onda Vitale SD Benessere, che non è aperto a tutti ma per chi ci dà un piccolo contributo perché tutte queste serate le abbiamo sempre tenute gratuitamente e chi vuole trovarsene tutti assieme sono contenuti in questo canale Onda Vitale SD Benessere, dove oltre tutte le dirette del martedì ci sono anche degli altri documenti sempre inerenti al benessere, quindi chi vuole attingere a tutta una serie di informazioni e c'è di tutto lì dentro, di tutto, perché in tre anni abbiamo ottenuti almeno 150, quindi abbiamo trattato argomenti a 360 gradi di tutti i tipi. c'è un indice, si entra dentro e si va a prendere quello che in quel determinato momento può servire, quindi per chi vuole avere strumenti per gestire al meglio la propria salute e quella dei propri cari o dei propri conoscenti, lì dentro c'è un po' di tutto. Allora il contributo per sei mesi, l'hai detto? Sì, c'è un piccolo contributo di 18 euro per sei mesi, quindi sono 3 euro al mese. Bisogna avere la tessera dell'associazione comunque, che non è 5 euro ma è 8 euro, questo qui è un documento vecchio, perché dal primo settembre la tessera è 8 euro, quindi anche questo è un strumento interessante. Quindi ringraziamo i partecipanti, settimana prossima quindi non ci saremo, ci vedremo tra due settimane in diretta Zoom per un altro appuntamento. Luciana scrive oggi a Treviso ci hanno riversato per tutto il giorno veleni, sarei interessata anch'io a vedere la diretta di martedì prossimo. Eh sì, anche qua oggi hanno fatto tutto il giorno, no, c'è stato il cielo tutto il giorno bello strisciato. Ci stanno, si stanno impegnando di nuovo in questo senso, purtroppo. Vediamo se riusciamo a registrarla, poi vi faremo sapere per chi vuole averla, vediamo di. Questo vediamo dopo. Se la riusciamo a riprenderla. Va bene. Intanto grazie mille, buonanotte a tutti, grazie dell'essere stati qui anche stasera. Martedì prossimo vi ricordo che non ci saremo, saremo impegnati e poi ci aggiorniamo per l'altro martedì. Grazie a tutti, buonanotte e a presto. Ciao. Grazie. Ciao ciao.